Quando un paesino, un borgo, diventa un salotto a cielo aperto per raccontare, attraverso l'arte nelle sue molteplici forme, un Molise inedito, sconosciuto ai più. È l'idea il filo conduttore di Small Talk. Presentato nei giorni scorsi, il format mira a diventare un riferimento per turisti e per gli stessi molisani. Small Talk, cultura in movimento, si snoda in un viaggio attraverso le ricchezze culturali, paesaggistiche e storiche di diverse località del Molise. Inizialmente sei, ma il progetto è ampliabile, così come le puntate della serie trasmessa sul canale YouTube dedicato. Abbiamo immaginato di raccontare la nostra terra in un modo diverso, lontano dagli stereotipi della classica guida turistica. Sono le parole del regista del programma, nonché DJ, speaker radiofonico e novello scrittore Charles Papa. Sì, lo raccontano in un modo veloce, dinamico, semplice. Noi non facciamo altro che usare i borghi molisani come sottofondo visivo a quello che raccontiamo. E cosa raccontiamo? Raccontiamo l'arte dell'ingegno di ognuno, per la maggior parte molisani ovviamente, e usiamo appunto il borgo come salotto, quindi nei paesi in cui andiamo. Siamo ospiti dell'amministrazione comunale, installiamo proprio dei salotti veri e propri, cioè proprio sedie, tavoli, o usiamo le bellezze del luogo. E ospiti in ogni salotto, c'è chiunque fa arte, cinema, teatro, musica, fumetto. Quindi è semplicemente mostrare quello che già abbiamo. Il progetto televisivo promosso dall'Associazione Calliope ha vinto il bando Turismo e Cultura e per questo ha potuto contare sull'indispensabile sostegno della Regione. Beh, certo, è fondamentale perché una puntata costa, cioè ha dei costi piuttosto... Siamo 20 persone, quindi solo la logistica, gli spostamenti, le attrezzature, tutti i professionisti che lavorano con noi. Quindi certo che è stata importante la Regione, un contributo privato e poi la volontà nostra di fare questa cosa. Abbiamo realizzato le prime sette puntate, quindi fino a maggio ogni tre settimane, ogni giovedì alle 18 uscirà una puntata. Ma se l'assessorato, come è nelle intenzioni, almeno come ci è stato già detto, è intenzionato, noi siamo pronti a proseguire. Quindi siamo 136 comuni, ne abbiamo fatti solo sei, ce ne vuole. Se ci riusciamo ce la possiamo fare, ce la possiamo fare.